Dopo le griglie, i funghi. Torna alla bella stagione e con lei riprende la battaglia contro il turismo mordi e fuggi in Cadore. La scorsa estate scoppiò la polemica per l'introduzione a calarza di una tassa sulle griglie per i turisti della domenica. Quest'anno invece tocca i funghi e la novità riguarda tutto il territorio della comunità montana del centro Cadore. Sono state infatti fissate le nuove tariffe per il permesso a raccolta funghi, gratuito per i residenti, mentre per i turisti è prevista una particolare divisione. Sono 10 euro per le persone che risiedono almeno due giorni nel nostro territorio, sono 25 euro il giornaliero per quelli che invece interpretano la montagna come mordi e fuggi. Insomma, chi si ferma in Cadore e produce ricchezza negli alberghi, bar o ristoranti potrà godere di una tariffa più bassa. Chi invece sale in montagna per una vacanza a costo zero pagherà di più. Avvisati quindi i turisti della domenica, anzi non si potrà più nemmeno chiamarli così. Già, perché per i non residenti sarà possibile andare per funghi solo martedì, giovedì e sabato. Una soluzione necessaria per tutelare le bellezze del Cadore. È naturalmente una forma di tutela anche del territorio e soprattutto una forma di turismo che veda appunto l'ambiente al centro del nostro agire e che soprattutto dia veramente merito e anche agevolazioni a chi ama il nostro territorio e ha deciso di venire nel nostro territorio. Ma in Cadore, per i pendolari del turismo, non saranno solo i funghi a essere salati. Tra poco prenderanno in via a Calalzi i lavori per i famigerati punti fuoco a pagamento, la tassa sulle griglie per i turisti di giornata. Adesso con i servizi forestali in delega appena verrà approvato il nostro bilancio di previsioni inizieranno i lavori. Pertanto io credo, non so se saremo in grado di fornirlo già per l'inizio di quest'anno, ma sicuramente il nostro obiettivo è quello di far pagare chi viene in appositi spazi debitamente attrezzati e soprattutto nuovi e manutentati. Grazie. 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 Grazie.